Magari se fai cambio palla uguale o quando difendi metti la palla per terra, sta in partita. Quando inizi anche a prendere punti in ricezione e non mettere la palla per terra diventa difficile. Penso che vada molto merito a loro, hanno giocato un'ottima partita, a parte appunto quel momento del secondo set dove avevamo preso un pochino, partendo dalla battuta. Penso che avevamo partiti dalla battuta. Diventa sempre più importante la fase di battuta e ricezione in questo gioco e loro l'hanno fatto meglio assolutamente. Hanno rischiato anche qualcosina in più in battuta, però hanno avuto tanto dalla loro battuta e ripeto, penso che dopo su determinate situazioni d'attacco sia stata fatta la differenza. Quindi qual è la realtà che resta per domani? Domani è una finale del terzo o quarto posto, va onorata perché siamo sempre in una Final Four di Champions League. Penso che molte squadre volevano essere qui. Ovviamente vorrebbero domani giocare alle 6 e non alle 3. Noi giochiamo alle 3 e penso che dobbiamo fare una buona partita. Dobbiamo cercare di onorare appunto questa nostra presenza qui. Penso, sono sicuro che ci sarà voglia da parte della ragazza di riscattarsi perché sono sicuramente le prime a essere ammaricate da quello che è stato il risultato. Cosa è successo da questi 18 e del secondo sette? È successo niente di particolare, diciamo che sono stati bravi loro. Noi abbiamo fatto fatica, ci ha messo in difficoltà molto con la battuta. Abbiamo perso un paio di palloni stupidi, molto stupidi, che alla fine fanno la differenza. È successo anche nella semifinale con Fenerbaccio una palla sul 13 a 7 che è caduta, è uguale oggi una palla sul 23 a 21, mi sembra è caduta. E tante volte una palla fa la differenza perché, ripeto, stiamo parlando di pallavolo a un livello altissimo in cui quando regali uno dopo paghi per tre o quattro. È peccato perché penso che avevamo messo la partita un pochino su un binario un po' migliore per noi. Però, ripeto, penso che grosso merito va da loro che hanno giocato una buona partita, soprattutto a muro, muro a difesa, battuto molto bene. E in momenti determinati ovviamente hanno avuto un terminale molto importante come Zucche che gli ha risolto molte situazioni, ma ha fatto il suo dovere. Non è che dobbiamo sorprenderci di questo. Abbiamo avuto l'occasione per girare la partita, non l'abbiamo fatta, per cui merita l'ora.